Il premio intitolato al caro amico Carlo Contini, che ho avuto il piacere di conoscere e di essere amico, è naturalmente indirizzato a quelle che sono le innovazioni tecniche nel settore dell'estrazione dei cateti, quindi vedere quanto di innovazione e di arte, perché nell'estrazione ci vuole anche un'arte, ci vuole anche un'immaginazione e infatti abbiamo privilegiato un po' questo settore, però poi il tutto come sempre va inserito in una realtà clinica, non ci dobbiamo dimenticare che possiamo essere tecnici, espertissimi in un settore, in una metodica, ma poi dobbiamo essere fondamentalmente cardiologi e medici e quindi direi che alla fine è prevalsa una valutazione particolare per un poster che praticamente interpreta un po' questo che sto dicendo, vale a dire inserito in una realtà clinica e non solo tecnologica. Il vincitore è il dottor Vinci, guarda caso, e direi il poster riguarda la gestione clinica molto difficile di un giovane paziente, molto giovane paziente, studiato con le più moderne tecnologie e risolto brillantemente con l'uso naturalmente di tecnologie diagnostiche terapeutiche da vanguardia e l'abbiamo premiato proprio per quello che dicevo, perché poi è importante la gestione clinica, non solo tecnologica del paziente. L'impatto è importante perché l'abito è vero che non fa il monaco, ma poi un po' il monaco lo fa, però poi deve essere il contenuto e come viene anche presentato chiaramente, senza altro. Grazie a tutti.